Ciao a tutti, ciao Mario, ciao Elisa, meteo per il fine settimana, in Italia in arrivo ancora l'anticiclone nord africano, ma questa volta sarà mite, appunto le temperature saranno al nord da 28 a 29 gradi e su tutto il resto d'Italia massimo 32 gradi. Sabato bel tempo su tutta l'Italia, domenica qualche temporale sul Salento, Calabria e Sicilia del nord. Brava, no, 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 non ti arrivo. Io che si stavo interrompendo perché stavo per dire, oh, sto africano, e basta, no, sto africano, e basta. In effetti l'africano tra lunedì 4 e mercoledì 6 si abbioccherà un po', per cui va indietro e le temperature tendono a scendere sull'Italia fino a portarsi sotto 32 gradi al centro nord, al massimo 33-34 sulle isole maggiore. e quindi dicevo sotto a 32 su gran parte del centro nord. Poi successivamente, invece, tra il 7 e il 9 di settembre, l'africano si fa compare ancora ma senza fare sfracelli. Infatti le temperature massime al nord saranno, al centro nord, tra 30 e 32 gradi, al sud tra 32 e 35 gradi, non di più, e solo per pochissimi giorni. E poi, finalmente, la botta finale all'africano perché tra il 10 e il 14 di settembre ritorneranno le fresche e temporalesche correnti a tradito. Abbiamo accontentato tutti, vero? I calienti e i freddofili. Ma io non sono molto contenta. Lei non è molto contenta. E comunque la chiudiamo qui questa nostra chiacchierata. Grazie. Va bene? Siamo ritornati, come vedete, più forti di prima, anche abbronzati. Guardate qua. Anche abbronzati, sì. Vedi, per quello voglio il caldo. Appunto, voglio il caldo. Beh, verremo di fatto.